bellissima da dove vengono fuori bello bello e interessante queste sono tutte le massime vero e vero ogni mattina ogni mattina dopo ne fai degli altri ah non mi muovo di qua voglio filmarlo interessantissimo è stato un po' è stato un po' Germania Allemani 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 Ok, can film this Ok I'm making some food ready Looks like I made this one Cheap Bedluga Looks great Patata Carota Sedano Sì, danno... Sì, io l'ho... Cocorito, Cocorito! E' un biet che va qua qua? C'è l'Italian song. Napolitan song. E' molto semplice. E' un po' semplice. E' un po' semplice. 30 secondi? 30 secondi solo. Pasta e coltellini. Sì, esatto. Actualmente l'Italian客ismo è la mia miglior irgendwas della stessa. Sì. Sì, dobbiamo. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.